Tante le segnalazioni dei cittadini e da consigliere comunale le devo raccogliere, l'ho fatto per 21 anni da giornalista, ora in questa veste potrò incidere in misura maggiore. Ci troviamo in via Aristosseno, precisamente lungo lo spartitraffico e guardate qual è lo stato dei mattoni, in pratica le radici degli alberi hanno sollevato completamente i mattoni fino al punto di farli staccare, sono completamente sollevati. Ovviamente transitare, passare è pericolosissimo, c'è l'altissima probabilità di cadere, penso soprattutto agli anziani, penso a chi ha problemi di deambulazione, è un qualcosa di incredibile, è un percorso di guerra, è qualcosa di pazzesco. Bisogna intervenire, bisognerà vedere se rimuovere gli alberi o comunque l'ideale sarebbe salvare gli alberi e trovare una soluzione appunto per la pavimentazione, qui addirittura il cordolo si è proprio sollevato. Ecco, qui sono state fatte parecchie numerose segnalazioni ma senza alcun esito. Vedremo cosa farà il neoassessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, sono proprio curioso perché secondo me qui bisognerebbe trovare una soluzione per contemperare la vita degli alberi con un adeguamento della pavimentazione. Certo è che non penso che si possa tollerare una situazione del genere, non è soltanto qui ma basta che facciamo altri due passi e troviamo analogo quadro. Non è solo un tratto ma è l'intero marciapiede, qui altri rialzi, rialzi pericolosissimi, paurosi e così a pochi metri ancora di distanza, guardate, il mattone si è proprio sollevato. Incredibile. Beh, tra le tante favole che ha raccontato Melucci, il fatto 100 per fortuna non c'è questa situazione. Ci accontenteremmo che Melucci facesse uno, non fatto 100, ma almeno una cosa fatta bene. Gli abitanti di Aristosseno non meritano di cadere e di trovarsi in ospedale. non solo loro ma anche i malcapitati che per qualsiasi ragione dovessero transitare su questo tratto.